Sette persone nelle Filippine dovranno presentarsi al Tribunale di Kidapawan per rispondere dell'omicidio di padre Fausto Tentorio, missionario del Pime, ucciso nel 2011 all'età di 59 anni, nella Rakan Valley, sull'isola di Mindanao. La svolta nelle indagini è stata resa nota dalla memoria depositata al Tribunale il 1 aprile scorso. Il documento elenca i nomi dei sette imputati, i quali alle 7.20 del 17 ottobre 2011, nel complesso parrocchiale di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso ad Rakan, si sono incontrati, hanno cospirato e hanno assassinato con evidente premeditazione padre Fausto Tentorio, chiamato Fadar Pops dai popoli tribali. Hanno sparato alla vittima, si legge nella memoria, con una pistola calibro 9 mm, colpendola alla testa al busto e in diverse parti del corpo, causandone la morte istantanea. La dinamica dell'agguato è stata ricostruita con quattro testimoni che vivono sotto protezione e deporranno al processo. Noi come familiari, come amici e associazioni dell'associazione Padre Fausto siamo contenti che ci sia questo sviluppo per dar senso e giustizia alla morte di Padre Fausto, per rendere giustizia a chi ha lasciato nelle Filippine Padre Fausto e anche al Pime stesso sicuramente. Padre Fausto viveva con e come i tribali, si è speso per cambiare la qualità della loro vita, ha aperto scuole portando l'analfabetismo dal 90 al 10%, ha portato l'acqua zerando la mortalità infantile, ha sostenuto i tribali nella difesa della loro terra ricca di mogano, minerali e fertile. Ma qualcuno gliel'ha fatta pagare. L'associazione Non Dimentichiamo Padre Fausto Onlus sta sostenendo i progetti per i tribali. Dicono sempre, noi ogni giorno continuiamo l'opera di Padre Fausto con Padre Fausto nel cuore, questo ci dà tanta forza e per noi è motivo di orgoglio.